Senti, dopo aver parlato di X-Factor, tra l'altro ci torneremo naturalmente anche per seguire il pre-diretta su Sky 1, Rafichetta? Sì, partiamo da un presidente rockstar, Cellino. Ah, sì, rockstar. Eh sì, visto che siamo in tema di musica. Vero, vero. Sta pensando a Filippo Inzaghi, Inzaghi che potrebbe lasciare il Milan a gennaio, è un giocatore che è stato accostato già a diverse squadre, Parma, Udinese, anche all'estero, e l'ultima idea sta venendo invece proprio al presidente Cellino, che inizialmente non era convintissimo, invece adesso sembra che stia cominciando a pensare al giocatore, all'attaccante rosso-nero. Altra notizia legata a una maxioperazione, stanno portando avanti Sampdoria e Brescia, Berardi e Juan Antonio dal Brescia verso la Sampdoria, Foti più con guaglio invece per il Brescia. Due notiziole invece di Serie B, il Gubbio scatenato vicino ai ricchiuti del Catania e potrebbe prendere anche Guzman dal Piacenza, invece Camporese difensore dalla Fiorentina verso Sassuolo. Ah, ok, va bene. Bene, 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 si muove, c'è polpa, c'è polpa, quindi torni più tardi. Torno.